Partiamo dalla riete. Oggi sarete molto più tranquilli e rilassati del solito. Le classiche incombenze del sabato non vi peseranno, anzi, riuscirete a risolverle rapidamente e a trovare del tempo per un po' di shopping privato. Toro, vi troverete bene in compagnia, meglio di quanto non immaginiate. Vi sentirete compresi al volo e sarà una bella sensazione, sia che si tratti di colleghi o parenti. Gemelli, tenderete a lavorare troppo, non importa se saranno attività retribuite o meno, sarete sempre in movimento per recuperare gli arretrati o per portarvi avanti con i lavori domestici. Cercate di non esagerare. Cancro, sarà una buona giornata, meglio di quanto non pensiate. Se dovete lavorare il tempo trascorrerà senza preoccupazioni e arriverete a sera in un attimo. Leone, oggi evitate di adottare la linea dura qualsiasi siano le vostre occupazioni o nei rapporti con il resto del mondo. Siate più elastici e vedrete che otterrete risultati. Oggi non è la giornata giusta per fare guerra, ci sono altri metodi. Vergine, cercate di non mettervi contro il resto del mondo. Certo sarà piuttosto difficile, ma poi provateci. Non fate commenti acidi e sorrisetti tirati. Bilancia, vi farà piacere occuparvi del vostro quotidiano, ne trarrete qualche piccola sicurezza materiale ed emotiva che rasserenerà il vostro spirito. Sul lavoro riuscirete ad avere e mantenere il controllo della situazione. Scorpione, sarà una buona giornata senza troppi pensieri, sia che dobbiate lavorare o che non abbiate nulla da fare. Riuscirete facilmente a sgombrare la mente da noiosi retropensieri. Sagittario, non combattete contro i mulini a vento. Lasciateli in pace e pensate un po' di più a cose piacevoli. Se dovete lavorare concentratevi sui compiti senza pensare a quello che fanno o non fanno gli altri. Capricorno, oggi preferirete la compagnia alla solitudine, le chiacchiere al silenzio. Sul lavoro vi farà piacere confrontarvi con i colleghi o chiacchierare più del solito con i clienti. Acquario, fate buon viso a cattiva sorte o almeno provateci. Se dovete lavorare non irritatevi per una parola sgarbata, ma sorridete. Pesci, anche oggi avrete decisamente il vento a favore e qualsiasi cosa abbiate in programma, potete star sicuri che non troverete ostacoli sul vostro cammino, sia che dobbiate lavorare o pensare alla famiglia o semplicemente a voi stessi. Grazie a tutti.